non mi vedi sono al faro ah ecco di qua guarda se ti giri alle due spalle ci sono io dove sei le due spalle sulla montagna bro c'è gente sulla montagna ma dove lì guarda dove sto indicando andiamo a mozzare aspetta vieni qua dobbiamo fare gruppo aspetta dove sei scomparso ma che cazzo sei che cazzo ridi dove sei non ti vedo vieni qua aspetta un attimo fermo mi sono nascosto brother presta la venenza mi fa star di guarda con la bu si può parlare allora allora che è sta storia un orso un orso un orso ah tieni sa sì questo indossalo questa montagna andiamo a fare rapine doggy vai vai indossalo cazzo aspetta come cazzo faceva tab ok perfetto adesso sono più scopabile sì mi stai lanciando dei messaggi adesso ti posso guardare ehi vieni qua ciao no ci sono ci sono due qui da me siamo amichevoli siamo amichevoli siamo amichevoli ma veramente doggy il cazzo sai intanto voi state a distanza ragazzi gente a sinistra ragazzi chi sono chi sono non è quello il problema sappiate che sappiate che non sono da solo ho aperto il fuoco per prima ehi ma infatti ti stai dicendo siamo amichevoli nessuno ha detto niente bene allora io mi allontano lentamente così così piano piano ok allora voglio la testa di fartiz e possiamo diventare amici di fartiz e possiamo diventare amici fartiz è un essere strano che porta gli occhiali barbuto eh sì con le mani da lupo ok 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 ho capito sì wolf and quello stronzo mi ha infilato una freccia su per il culo devo vendicarmi devo vendicarmi ehi dove si trova ehi dove si trova ehi non sappiamo non possiamo aiutarvi le cacchiamo degli indigeni letteralmente non abbiamo armi dove sta quella ma alziamo noi ragazzi ma alziamo sì no non credo non è possibile no non credo di ammazziamo doggy gli vengo a far l'agguato da dietro vai ammazziamo chi sono ma è passato un cazzo di elicottero che ha cominciato a spararmi c'è mi sta letteralmente missilando raga no vabbè sono morto mi hanno missilato come uno stronzo fucilo a pompa questo c'è da sopra no mi hanno ucciso no raga ma chi è? posso vedere chi mi ha ucciso? sì in alto marro marro sotto qua ah no minchia mi ha lasciato tutto bravo mi sarà cagato di qualcosa allora eh perché forse eravamo noi con le armi boh oppure è stato magnanimo non lo so secondo me è stato magnanimo per qualche strano motivo non si scende dal cavallo strano strano vero no perché siamo dei botti che hanno fatto a loro l'ha fatto per pietà raga c'è io ho fatto un po' di roba fai vedere un po' che minchia robbie pensavo che fosse un marro giuro era vestito come te eh che stai gli ho rubato la roba ah l'hai ucciso tu? no no l'hanno ucciso Leo e Dario io con uno sciacallo non mi sono preso la sua roba dai corri 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 perché corro la madonna non riesce a correre ma perché mi è caduta la roba addosso Sasi? non lo so che cazzo stai combinando perché a un certo punto mi è caduto un tetto addosso non funziona no 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 pesce non è che ti viene la fantastica idea di spararmi una freccia nel culo ma perché ti dovrei sparare la puttanaccia di quello? non lo so magari ti scappa il grilletto non lo so